Buongiorno a tutti, post day dopo la vittoria contro il Brighton 4 a 0, vittoria nettissima e senza scossoni, Liverpool che torna nuovamente in Champions, due anni di seguito non succedeva da tempi di Benitez, quindi possiamo ufficialmente dire che Liverpool è tornato ad essere in Liverpool, non fosse altro per la finale di Champions, due anni consecutivi tra i primi quattro a cui si aggiunge la finale d'Europa League di due anni fa, decisamente siamo tornati ad essere noi stessi, credo che i risultati parlino per noi, adesso mancano i trofei, quelli tangibili, ma sfiga a parte non credo ci voglia molto, nel senso, se non è quest'anno che comunque vince la Champions contro la Madrid, vedendoli, la fine che hanno fatto le altre squadre gli anni scorsi è difficile, ma io penso che negli anni futuri non ci manchi molto a ricominciare a vincere i trofei. Quindi siamo fra i primi quattro, peccato perché per un momento eravamo anche terzi, solo poi il Tottenham, al termine di quella che senza dubbio è la partita dell'anno, ben 5-4, ha vinto e quindi ha ripreso il terzo posto e noi siamo finiti solo quarti. Battuto nettamente sulla lunga distanza la corsa col Chelsea, che nonostante qualche episodio a sfavore del Liverpool che aveva un po' rimesso in gioco la squadra del mafioso russo, alla fine è finita quinta come meritava, quinta come meritava, è ancora più sotto, credo a 12-13 punti c'è l'Arsenal che è, lasciamo stare. Ci meritiamo nettamente la zona Champions, anzi il quarto posto è, che comunque non cambia assolutamente nulla dal terzo e dal secondo, e visto che da quest'anno le prime quattro vanno tutte dirette in Champions, senza passare dai primi nari, come invece facevamo l'anno scorso, dicevo appunto che la zona Champions è meritatissima, quarto posto minimo indispensabile, oggettivamente la corsa al campionato, la vittoria della Premier League, era irrealistica, conquisto Manchester City, dei record che ha polverizzato tutti i record precedenti di tutti i campionati Premier League e First Division, e che praticamente già a dicembre aveva eliminato ogni dubbio su chi avrebbe vinto il campionato, per il resto abbiamo davanti, vabbè, i clandestini di merda non li considero neanche perché è una posizione di campionato raggiunta illegalmente tra furti del cazzo e avversari che improvvisamente svenivano in campo e colpi di culo, non è una posizione di campionato lecita quindi, loro non contano, davanti abbiamo il Tottenham, che effettivamente non è più forte di noi, non è assolutamente più forte di noi, anche considerando i risultati della stagione, ma effettivamente in campionato ha dimostrato una leggera costanza più di noi, quindi averlo davanti di due punti non è così tragico, ci può stare, ci può stare. Diciamo che avere davanti Manchester City e Tottenham quest'anno non è così sbagliato, ci può stare, è un risultato che ci può stare, tanto più che a fronte della finale di Champions il nostro risultato era finire appunto fra le prime quattro, perché era vitale, vitale, il prossimo anno essere comunque in Champions, sia per mantenere i giocatori, che insomma, sappiamo bene che certi giocatori, a partire dai tre là davanti, ovviamente devono giocare la Champions, perché tre giocatori di così alto spessore devono giocare la Champions, e la stanno giocando, fortunatamente, e la giocheranno, ma uguale anche per tutti gli altri giocatori della Rosa, non è che gente come Van Dijk, Anderson, i due terzini che quest'anno sono esplosi, Chamberlain, Lallana e company sono da meno. Alla fine abbiamo perso Emre Canne, perché va via zero e voleva andare a giocare la Juve, non so sinceramente cosa cazzo ci andrà a fare, anche perché noi ipoteticamente il prossimo anno ci giocheremo veramente il campionato, insomma, e la squadra rimane questa, con l'acquisto di Nabicheita, che già da sé basterebbe, e poi inevitabilmente, Nabicheita è già pagato dall'altro anno, inevitabilmente faremo mercato, cioè, abbiamo la Champions, abbiamo sempre metà dei soldi di Coutinho in garage, abbiamo tutti i soldi che anche se la finale di Champions la perdiamo, anzi, a livello di soldi, perdere la finale di Champions è meglio di vincerla, perché credo ci sia poca differenza, si mette, si parla di un centinaio di milioni per chi arriva in finale, poi ovviamente chi la vince ne ha di più, credo arrivi a 100-110 che la vince, un 80-90 che la perde, chi la vince si mette in tasca più sordi, ma per legge di pagare i bonus giocatori, l'altro anno il Real Madrid bonus giocatori con pesifono 20 milioni, alla fine andò a mettersi in tasca meno soldi di quelli che si misi in tasca la Juve, quindi si capisce che la finale di Champions ci ha portato in tasca una marea di soldi, e inevitabilmente faremo mercato. Abbiamo un monte di soldi, per non parlare poi dell'incremento degli sponsor che la finale di Champions League ci ha portato, quindi faremo mercato e potenzieremo la squadra, dubito che qualcuno degli attuali top player se ne vada, perché Firmino ha rinnovato due settimane fa e mi sembra assolutamente fuori da ogni discorso del mercato, anche perché lui non se ne vuole andare e anche perché se lo va a comprare ora sono altri 150 milioni, non so se qualcuno ha voglia di rispenderli. Sarà ovviamente potrebbe essere, cioè sicuramente sarà oggetto di losing, ma ha un contratto firmato giusto un anno fa e lui non vuole andarsene, la società non lo vuole vendere e comunque per meno di 200 milioni di sterline non se ne parla, considerando che il PSG avrà il mercato bloccato per l'effetto finanziario, considerando che il Barcellona comunque è senza i soldi della Champions che si è fermata abbastanza in fretta, poi non so chi prenderanno, non che hanno già speso 160 milioni a gennaio, considerando che il Real Madrid vuole provare a prendere Neymar e probabilmente comprerà Griezmann, non so se qualcuno avrà tutti quei soldi per comprensere, comunque questo è un discorso che faremo in estate e comunque lui vuole rimanere e la società non lo vuole vendere, questi sono discorsi da fare d'estate che adesso ci combinano poco, il bilancio della stagione al netto di un eventuale vittoria della Champions, è già ultrapositivo il bilancio della stagione del netto, tornati in Flamere Champions, riconfermati in Flamere 4, siamo ovviamente una delle prime 3-4 squadre più forti al mondo, davanti a noi ci metto il Real, ci metto comunque il Manchester City, perché anche se li abbiamo fatto un culo così in Champions League e anche se quest'anno fondamentalmente su quattro partite ne abbiamo vinte 3, ma gli sconti vietti contano il giusto, io continuo a ritenerla più forte di noi perché ha ammazzato il campionato in un modo che nessun altro aveva mai fatto, quest'anno si merita di stare su di noi, quindi ci metto al Madrid, ci metto il Manchester City, ci metto per organico il PSG, anche perché nonostante in Europa ha bella esperienza di questo telefono qui, comunque sia una squadra fortissima, una rosa pazzesca e un organico immenso e anche loro lo considero sopra di noi, il Barcellona non lo considero assolutamente sopra di noi, per niente, hanno vinto un campionato rubando quasi a livelli dei clandestini, in Champions League nonostante abbiano provato a rubare la Roma, non ci sono già rubato, non hanno rubato un cazzo, nonostante la prima partita abbiano passato in campo e abbiano vinto 4-1 con 3 gol, perché sennò non vincevano anche quella, cioè il PSG dicevano fatto schifo, al cazzo, non è assolutamente più forte di noi, per niente, in un eventuale sconto diretto lo avremmo asfaltati, se vi ricordate quando arrivamo al quarto di finale contro il City e di là le sfide, sapeva che la Madrid sarebbe passato, che il Bayern Monaco sarebbe passato, si pensava che il Barcellona sarebbe passato con la Roma, se andate a vedere i video, forse l'ho detto anche nei video, dicevo che in un eventuale semifinale, fra Real Madrid e Bayern Monaco, speravo di beccare il Barcellona, la terza che si pensava sarebbe passata, perché fra le tre era quella molto più scarsa e era quella molto più abbordabile, già a tempi avevo detto che mi sarebbe garbato a prendere loro, infatti sono rivelato in una squadra molto inferiore a noi, sia come risultato in Champions League, sia come gioco totale, poi si hanno vinto il campionato, in un anno in cui il Real Madrid del campionato è regalato punta a destra-sinistra, in un anno in cui l'Atletico Madrid non è riuscita, perché secondo me l'avrebbe potuto vincere quest'anno atletico, non è riuscita a avere quella marcetta in più e in un anno in cui il campionato hanno rubato come dannati, vabbè, società di criminale e mafiosi. Quindi sì, il bilancio della stagione è assolutamente positivo, non potrebbe essere altrimenti quando ti riconfermi tra le prime quattro e arrivi in finale di Champions, non può che essere positivo. Rimane il rammarico per le coppe, le coppe nazionali, che purtroppo ci siamo fatti buttare fuori come coglioni da una e da quell'altra. E abbiamo perso l'occasione di vincere un trofeo, perché si considerano anche le finaliste del cazzo che ci sono ora, vabbè, la Coppa di Lega c'era a Manchester City, comunque loro le coppe, le finali di coppe nazionali, quando ci arrivano le vincono. Sarebbe stata difficile, però fra Chelsea e i clandestini di merda, vabbè, Chelsea si batteva, i clandestini di merda siamo nettamente superiori. Rimane il fatto che probabilmente l'avrebbero rubata, anche perché, come la ruberanno, ovviamente la ruberanno anche a Chelsea, perché devono vincere un trofeo. Se non vincono, cioè, poi da vincere gli è rimasto veramente poco, giusto le coppe nazionali e come è successo l'altro anno, se scurano i sorteggi, il loro paligma. Comunque qualcosa devono vincere tutto l'anno e quindi quest'anno la vinceranno loro, rubando sul Chelsea. Ma sarebbe stato un trofeo assolutamente a nostra portata, perché furti o non furti siamo nettamente superiori alle due finaliste e quindi il grande rammarico di questa stagione è quello, non essere riusciti a portare a casa una finale di una delle due coppe nazionali. Perché sarebbe potuto essere veramente un trofeo da mettere in bacheca e nel caso in cui il 26 avessimo vinto la Champions League avremmo potuto fare un double di trofei che a inizio stagione sarebbe sembrato impossibile. Impossibile. Quindi questo è un grande rammarico e al di là del fatto che non abbiamo potuto giocare la finale delle coppe nazionali, anche il modo in cui siamo usciti rimane veramente un rammarico. Mi aspettavo veramente di meglio. Se devo dare voto alla stagione, al netto come al solito di un'eventuale vittoria di Champions League, che comunque cambia di mezzo punto perché già essere arrivati in finale è una cosa pazzesca. Comunque al netto di quello, casomai poi aggiornerò il voto in seguito, do un otto, un otto alla stagione. È la media fra il 10 della raggiunta finale Champions League, il 6 nelle coppie nazionali, più 5 che 6, facciamo 5, e un quasi 9, 8, 8 e mezzo diciamo per quanto visto un campionato che al netto anche dei furti arbitrali tremendi di cui siamo stati vittime, tra l'altro inutilmente, perché il Chelsea poi si è suicidato contro l'Università sulla luta, quindi anche se avessero, aperta parentesi, ieri altro furto pazzesco, un rigore inondato, ma sullo 0-0 se non mi sbaglio. Al netto di una partita inutile perché il Chelsea comunque ha perso 3-0, anche se ieri ce l'avessero fatta a rubarci la partita e a farci perdere la partita comunque saremmo andando nel Champions League. Quindi, nonostante questi tremendi furti di cui siamo stati vittimi ultimamente, ci abbiamo fatto raggiungere le prime quattro posizioni che era quello che volevamo. Quindi un bell'otto, un bell'otto che spero di poter aggiornare in un voto di molto superiore nell'eventuale ma difficilissima vittoria di Champions il 26. Detto questo, detto tutto, video lunghissimo, 17 minuti. Ci vediamo al prossimo video, sempre Forza Liverpool!